... Dolore e commozione in tutta la città per la morte di Massimo Grassi e Jennifer Bubic sul Monte Lussari. Le parole di chi li conosceva. C'è un probabile movente economico in un triplice omicidio accaduto in Austria. Ieri uccisi tre membri della nobiltà, tra cui una contessa friulana, Margherita Cassis. Approvata nella notte la manovra finanziaria del Friuli Venezia Giulia, un documento che investe sulla famiglia e sul rilancio del lavoro, affermato il presidente Fedriga. E nella manovra regionale confermata anche la mia, con il tetto di cinque anni di residenza e l'erogazione da parte del comune, che non convincono i beneficiari. I carabinieri hanno arrestato un 33enne per averlo colto in flagranza per tentato furto in un negozio di strada di fiume nella notte, la notte refurtiva restituita al titolare. Il record superato da Guinness dei Primati va a Trieste, il waltzer più grande del mondo, 1.598 le coppie in piazza Unità questa sera. Il menù delle feste di Chef Franco oggi passa al secondo con una suprema di cappone all'arancio, la prossima settimana si chiuderà con il dolce. Buonasera dal telegiornale di Telequattro, grande commozione in tutta Trieste per la tragedia in montagna che ha portato via le vite di due giovani, Massimo Grassi e Jennifer Ubic. Vediamo il servizio. Cercheremo di star vicino a un dolore molto più grande quello dei genitori, della sorella e di tutte le famiglie, insomma che senz'altro hanno perso due giovani, due figli e due persone speciali. E' commosso padre Francesco della parrocchia dei Capucini di Montuzza nel ricordare i due escursionisti dispersi in montagna da martedì e trovati ieri pomeriggio senza vita, riversi in una pozza d'acqua. Il religioso conosceva in particolare Jennifer Ubic, 35 anni, che in compagnia del 41enne Massimo Grassi è precipitata da circa 200 metri da un diruppo del Monte Lussari verso la valle di Rio Freddo a circa 1125 metri di quota durante una passeggiata, a ucciderli probabilmente già i traumi della caduta o il freddo. Jennifer faceva parte del coro parrocchiale diretto dal maestro Alessandro Strani, anche lui commosso e addolorato. Allora, Jennifer era una corista speciale e aveva una voce speciale, soprano leggero, con un timbro molto dolce e molto, molto materno. Io immagino quelle voci che un bambino immagina di sentire in una nina nanna prima di addormentarsi. Nell'ultimo periodo, conoscendo la sua devozione alla Madonna, avevo pensato di affidarle come solista l'inizio e la fine di un canto dedicato a Maria Madre. La strofa finale recita, apri a noi le porte del cielo, dona a noi la luce. Ecco, Jennifer adesso è in cielo e noi purtroppo qui sulla terra ci mancherà, ma ci mancherà molto. E' una ragazza che era qui da diversi anni, qui a Montuzza, che era legata alla nostra comunità, alla comunità del coro, alla comunità dei fedeli che si avvicinano qui alla nostra chiesa. Era una ragazza, potremmo usare tanti aggettivi, e tanti la conoscevano, che esprimeva una certa nobiltà per la sua delicatezza, per la sua gentilezza, per la sua attenzione, la capacità di stare in coro senza mai prevalere e lasciandosi guidare. Ancora cronaca, triplice omicidio della nobiltà austriaca nella giornata di ieri vicino a Vienna. Tra le vittime anche la contessa di origini friulane, Margherita Cassis, faraone. Vediamo il servizio di Gianluca Paladin. Triplice omicidio nella nobiltà austriaca. Nella giornata di ieri, la polizia ha arrestato il conte Anton Von Goes, di 54 anni, ritenendolo l'omicida del padre 92enne, il conte Hurrich Von Goes, della moglie Margherita Cassis, faraone, di 87 anni, friulana, e di Ernst, un altro figlio del conte. La strage avvenuta nell'antica dimora di Bockflis, a Mistelbach, nella proprietà di Hurrich Von Goes. Sua moglie, Margherita Cassis, faraone, era di Terzo di Aquileia, dove aveva una villa in centro. Era molto conosciuta sia nella bassa friulana che in tutta la regione Friuli Venezia Giulia per il suo impegno culturale. Sul posto sarebbe stato trovato un fucile da caccia, probabile arma del delitto, e secondo gli investigatori non è da escludere tra le varie piste di indagine un movente di natura economica. Voltiamo decisamente pagina e ci occupiamo del record mondiale del waltzer più grande del mondo che si è registrato pochi minuti fa, poco fa, in piazza Unità, proprio qui a Trieste. C'eravamo anche noi di Telequattro, 1598, almeno dai primi dati, le coppie che si sono cimentate in questo record mondiale. Allora vediamo il nostro servizio. Assessore Bucci, 1500 E' 98, poi verrà certificato con ovviamente i giudici, qualche numero salterà, ma la cosa importante è che abbiamo sfondato il record. Un'immagine emozionante, non ho mai visto una città così bella, davvero, veramente emozionante. Ha voluto il suo nipotino a testimoniare questo raggiungimento? E' un raggiungimento che ci consentirà di vendere l'immagine della città di Trieste, una città elegante, legata al waltzer, un'atmosfera che la città si merita. Grazie a tutti, grazie a tutti i partecipanti, è stato davvero indimenticabile. Trieste è miracolosa! Allora, che sindaco per raggiungere questo record? Ce la facciamo questa volta? Non so se ce la facciamo, però sicuramente la piazza è qualcosa di straordinario, migliaia di persone con questo arredo ad obbi natalizi è veramente una soddisfazione enorme. In più, ieri avevamo un freddo cane, oggi sinceramente non fa quel freddo di ieri con la bora, per cui siamo anche fortunati, come sempre del resto. E sentiamo allora in questa bella festa che si è vissuta in Piazza Unità poco fa, questa sera, per il waltzer più grande del mondo, sentiamo alcune delle voci dei protagonisti. Aspetta la sua dama? Stai lì! Due sorelle, bellissime! E se i mariti sono rimasti a casa? Non vogliono ballare? Si vergognano! Peccato, non sanno cosa si perdono! Esatto, non sanno cosa si perdono! Sempre presente in queste occasioni e anche in altre ovviamente, però Trieste risponde benissimo ed è giusto essere qui presenti. Benissimo, e con il waltzer qual è il rapporto? Lo balla di solito? Uno a dieci? Uno? Però stasera ci siamo, dobbiamo esserci. Vale! E poi dite che è Trieste! Non si è scoraggiata neanche? Assolutamente, assolutamente, ci proviamo, speriamo di raggiungere. Che meraviglia di costumi! A quando risalgono? E li ho fatti io! Ah, proprio in casa? Sì, 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 li ho fatti io per un carnevale a Venezia e li abbiamo riciclati in questa occasione. Due giudici! Ecco, due giudici tecnici! La generazione italiana danza sportiva! Infatti campionesse, però questa volta vi tocca stare ferme! Troppo sì! Sì, controlliamo, controlliamo. Bellissima emozione, con tutte le vostre luci che rappresentano la vostra gioia di stare insieme a noi, in questa meravigliosa città, insieme a tutti voi. Non si fa così, non si fa. Vergogna, cavaliere che arriva via la 120. La povera signora è stata lasciata sola, vedrà che non resta sola. Questa è la bella festa di Trieste, del suo waltzer più grande del mondo. Allora cambiamo nuovamente pagina e passiamo alla finanziaria regionale, che è stata approvata nella notte, anzi di prima mattina. Il presidente Fedriga, nel commentare le varie poste messe a bilancio, ha parlato di una legge che mette al centro la famiglia e i veri bisogni dei residenti della nostra regione. Servizio di Bernardo Gulotta. Con 28 voti favorevoli, 10 contrari e 3 estensioni, l'Aula del Consiglio regionale ha approvato poco prima dell'alba la legge collegata alla manovra di bilancio. La seduta, l'ultima di quattro giornate di lavoro, era cominciata ieri mattina ed è proseguita a oltranza nella notte. Dopo l'approvazione della collegata della legge di stabilità, l'Aula ha colto il DDL 35, bilancio di previsione per gli anni 2019-2021. Per l'esercizio finanziario 2019 sono previste entrate e autorizzate spese per 7 miliardi 568 milioni 970 mila 666 euro. Per l'esercizio 2020 le entrate previste e le spese autorizzate ammontano a 6 miliardi 571 milioni 138 mila 264 euro. Per il 2021 la previsione dell'entrata è di 6 miliardi 238 milioni 814 mila euro, con analogo importo per le spese autorizzate. Prima del voto finale l'Aula aveva approvato gli ultimi articoli dei due provvedimenti fino all'entrata in vigore. Questi i dati più significativi sono 319 milioni di debito che serviranno per gli investimenti che la Regione metterà in campo in ambito sanitario e sociale. In questo contesto il generale per il mantenimento della sanità e delle politiche sociali, il comparto incassa circa 3 miliardi. 14 milioni sono stati destinati a garantire l'asilo lindo gratuito o per larga parte coperto da questo fondo per i figli dopo il primo genito delle famiglie con un reddito inferiore ai 50 mila euro di ISEE. A questi si aggiungono i 6 milioni che rafforzano gli sconti sugli abbonamenti per gli studenti sotto i 26 anni che utilizzano il trasporto pubblico locale extraurbano. Su questo è caduto il vincolo dei 5 anni di residenza su cui era nata una polemica. Poi 10 milioni per la riduzione dell'IRAP per le attività industriali della montagna, 5 per il credito d'imposta per chi investe in innovazione, 3,5 milioni i soci cobi di Trieste e della Carnia, 6 milioni per le politiche attive del lavoro, poi poste per l'emergenza maltempo in montagna, per infrastrutture, sicurezza, ambiente e incentivi alla mobilità sostenibile. E nella legge di stabilità della regione è stata anche confermata la misura di sostegno al reddito, ma cosa ne pensano i diretti interessati, ovvero coloro che attendono lo stesso sostegno? Vediamo. 8 milioni di stanziamento straordinario dalla regione per la prosecuzione della misura di sostegno al reddito, la mia, con alcune importanti novità, tra cui l'elevazione da 2 a 5 anni di residenza in Friuli Venezia Giulia per averne diritto. Novità che però preoccupa il gruppo dei 3 mila che attendono il sostegno al reddito. Il discorso dei 5 anni, il discorso di residenza va bene, ma ci sono casi in cui ci sono persone, cittadini, che sono andate a lavorare, non so, in altre regioni, rientrano l'ora e non avranno diritto di questo sostegno. E anche qui si dovrebbe rivedere, magari con qualche clausola, e verificare caso per caso laddove è possibile. Altra fonte di dubbio è per il comitato spontaneo di cittadini l'erogazione della misura prevista non più attraverso l'Inps, ma nuovamente dai servizi sociali del comune. Adesso la mia la vogliono far passare attraverso i comuni, quindi attraverso gli strumenti che erano prima. Questo andrà sicuramente a creare una situazione di disagio con quelli che la mia la percepiscono attraverso la card. E anche questo si dovrebbe un attimo tener conto e rivedere anche questo tipo di situazione. Comunque la vediamo come una cosa positiva, ha visto l'evanescente reddito di cittadinanza, ha visto tutte le altre cose, e poi c'è un altro problema sostanziale. Circa da tre mesi tutti quelli che hanno finito il provvedimento di mia hanno fatto domanda di lei. E queste persone sono da diversi mesi che non percepiscono più nulla. Il gruppo infine chiede ciò che ha sempre voluto sottolineare fin dalla sua nascita, la necessità di collegare la misura a reali opportunità di lavoro. In otto mesi abbiamo visto che ci sono state fatte proposte, tanti discorsi, tante possibilità, ma qui ancora oggi a me risulta che non sia stato proposto nessun posto di lavoro per le persone che sono in una situazione di disagio. E questo credo sia il punto determinante in cui devono costantemente lavorare. Sono stati numerosi gli spunti offerti dal sindaco di Trieste di Piazza, ospite ieri sera a Ring. La paghetta ai consiglieri, il progetto dello Stadio Rocco, ma anche un'indiscrezione espressa dal sindaco per un imminente passaggio di un consigliere all'interno della sua lista civica. Sentiamo. Perché, sindaco, quelli che fanno riferimento alla sua lista, portano il suo nome, non li tiene sotto controllo? Ne ha persi due i consigli. Persi? Sono passati alla Lega. Cioè la Lega avrà l'obiettivo di avere più peso. Forse nel prossimo settimana vedrà che qualcuno viene da noi. No, è una notizia. È una notizia questa. È una notizia questa. Pagli una bottiglia di champagne? No, ho capito, però da che parte arriva? Adesso vuoi sapere tutto? Eh beh, sì. Non si può. Ogni mattina tutti i dirigenti sono impegnati con le commissioni. Sì. Allora, cosa abbiamo fatto? Abbiamo copiato semplicemente quello che aveva fatto la provincia prima, che abbiamo dato, e quello che fa la Regione. Allora ci sono sei commissioni. Tu invece che adesso una, per esempio la bassa Poro, Patò, Tuia, che avevano un'unica presenza, erano presenti in tutte le commissioni. Certo, perché ci fanno tutte? Allora, naturalmente, si portavano a casa una barca di gettoni. Mentre adesso tutti avranno la loro presenza. Per esempio, ci saranno due in quella commissione, due nell'altra commissione, e così sarà una cosa più giusta. Ma quello che semplicemente va detto, che ci sarà un'efficienza diversa, capisci? Lei dice, a fine si risparmierà. Spesso e volentieri, le commissioni venivano fatte con certa leggerezza. Mentre adesso, siccome non ci sarà questa necessità del gettone di presenza, saranno fatte con più consapevolezza. L'altro giorno la Federazione Italiana Gioco Calcio ha chiesto al comune di Trieste di dare tutta la documentazione per come abbiamo rifatto lo stadio in così poco tempo per consegnarla agli altri comuni. Queste sono le soddisfazioni. Cioè diventate benchmark. È un simbolo dell'efficienza. E questo non può che far piacere a me e a chi ci ascolta. Ora ci fermiamo per una breve pausa pubblicitaria. Restate con noi. Riprendiamo il telegiornale con un'intervista al presidente del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, a commento proprio dell'approvazione della manovra finanziaria regionale. Vediamo. Governatore Fedriga, a pochi mesi dall'insediamento del nuovo governo regionale la prima legge di stabilità è stata approvata. I contenuti sono innovativi. In particolare? Sono particolarmente soddisfatto perché è riuscita questa legge a costruire il futuro del Friuli Venezia Giulia basato su delle grandi colonne portanti. Il primo è l'abbassamento della pressione fiscale per incentivare le imprese ad investire. Quindi noi abbassiamo le tasse veramente e l'abbiamo fatto concretamente con questa norma. Abbiamo fatto un piano straordinario di investimenti per favorire lo sviluppo di 319 milioni di euro. Secondo passaggio fondamentale. Abbiamo creduto nel sociale. La misura su tutte, sugli asili nido per i secondi figli, un asilo nido gratis per i 6 sotto i 50.000 euro significa credere nella famiglia, credere nello sviluppo della nostra società. Abbiamo puntato sul lavoro. Penso a tutte le misure per favorire l'impresa ad assumere chi è uscito da crisi occupazionale. Penso a tutte le misure sul PAL, sul lavoro femminile, dove vengono dati i contributi che possono arrivare a superare gli 11.000 euro per chi assume donne con figli sotto i 5 anni. Abbiamo puntato fortemente sul modello sanitario. Su questo più investimenti con risorse e spese meglio. Perché non basta dare soldi, bisogna erogare servizi ai nostri cittadini. Venezia ci riprova. Ora esiste un progetto per installare una piattaforma offshore, stavolta a largo del mare di Chioggia. Qualora fossero attratti investitori stranieri, si stima che l'opera possa avere un costo complessivo di più di un miliardo di euro. Gianluca Palladin. Torna l'incubo per Trieste dell'offshore di Venezia. Un'idea già pensata dall'ex presidente dell'autorità portuale Paolo Costa, progetto poi affossato dal successore, capo dell'autorità lagunare Pino Musolino. Ora l'incubo riemerge dalle acque di Venezia. Gli obiettivi veneti sono molteplici. Ampliare la zona portuale del sito per essere in grado di ospitare e far transitare maggior numero di container, rendere più competitivo il porto lagunare con gli altri porti europei e attirare l'interesse di capitali e investitori stranieri per far crescere i traffici. Insomma, non un'ottima notizia per i programmi che riguardano l'area portuale Giuliana, che dovrà trovare il modo di rendere ancora più attrattiva l'opzione Trieste. Un progetto, quello veneziano, per ora solamente embrionale, stavolta pensato per essere installato al largo del mare di Chioggia e che dovrebbe avere un costo che ondeggia tra il miliardo e il miliardo e mezzo di euro. In questa fase, la società V-Gate SRL si sta occupando del finanziamento iniziale, in attesa di riuscire a includere interventi stranieri. Nella notte di ieri, il comando provinciale dei carabinieri in nucleo radiomobile di Trieste è arrestato in flagranza di reato per furto aggravato un pluri pregiudicato triestino 33enne. Verso mezzanotte, un carabiniere transitando in strada di fiume ha notato che un uomo, dopo aver forzato la saracinesca, si stava introducendo all'interno di un negozio di materiali e impianti elettrici. Il militare è rimasto in posizione defilata e ha chiesto alla centrale operativa di Via dell'Istria di inviare a supporto un equipaggio del nucleo radiomobile che è giunto sul posto in pochi istanti. Con l'aiuto del collega, i militari dei radiomobili sono riusciti a bloccare il 33enne mentre cercava di allontanarsi dal negozio con il fondo cassa, circa 50 euro in contanti. E il camper della Polizia di Stato ha sostato stamane in Piazza della Borsa nell'ambito dell'iniziativa Questo non è amore. Vediamo. La giornata di oggi rientra in una campagna permanente creata dal Dipartimento della PS da due anni a questa parte che si intitola Questo non è amore. Tappa al mercatino di Natale di Piazza della Borsa per l'iniziativa della Polizia di Stato denominata Questo non è amore tesa a prevenire i reati di violenza domestica e stalking. Quindi è una campagna fatta di una serie di eventi da organizzare, di giornate per informare, per avere contatti con le persone, quelle che possono essere le vittime vulnerabili dei atti di stalking, quindi di atti persecutori o di violenza domestica. E nel dare, nel fare rete poi con le altre istituzioni quale non solo il Comune ma anche il GOAP e c'è gli assistenti sociali altre associazioni quali per esempio a Trieste e l'Interpares proprio per cercare di non fare solamente un'attività di repressione ma come nucleo di coordinamento di quella attività che deve, come dicevo prima, fare prevenzione. A Trieste le segnalazioni di violenza e persecuzioni registrano un'incoraggiante seppur lieve flessione. La città, il trend di quest'anno sicuramente è migliorativo rispetto agli anni pregressi nel senso che abbiamo meno fenomeni di violenza meno esigenze di dover intervenire con una mano repressiva questo sicuramente è il frutto anche di questa nella campagna di prevenzione di informazione effettuata negli anni scorsi che un po' è lo specchio di tutta, diciamo, l'Italia e del trend nazionale. Il Natale 2018 è caratterizzato dalla presenza in città di ben due piste per il pattinaggio su ghiaccio. Vediamo. Non una ma due piste per il pattinaggio su ghiaccio quest'anno a Trieste. Per i più piccoli c'è Piazza Ponte Rosso e poi quella tradizionale in Piazza della Borsa con tante novità per il divertimento di tutti. In Piazza della Borsa abbiamo fatto una pista per i più grandi per le famiglie un ambiente riscaldato pattini nuovissimi di ultima generazione della Roxa e in più ogni cambio scarponi abbiamo messo anche i calzini igienizzanti. Questa pista è una 15x30 non abbiamo avuto poche difficoltà a farla perché Piazza della Borsa sapete che in centro è molto in pendenza ma mi pare che il risultato è ottimo e si può pattinare splendidamente su questa pista. Vi aspettiamo qui numerosi abbiamo i pinguini gli orsetti i delfini quest'anno novità i delfini e soprattutto tantissime luci colorate che animeranno di giorno in giorno questo evento oltre alla neve artificiale che scenderà dal cielo. Devo dire grazie anche al sindaco e a tutta l'amministrazione comunale che ha voluto fortemente questa pista riscaldata all'interno e con una nuova location anzi due piste una per i bambini in Piazza Ponte Rosso e una per gli adulti qui in Piazza della Borsa. La Triestina riscatta la sconfitta esterna ad inizio settimana con una prova di alto livello oggi pomeriggio allo Stadio Rocco l'Unione ha battuto per 2 a 0 la Feralpi Salò disputando un ottimo calcio nonostante l'espulsione di Granoccia nel primo tempo che ha costretto i ragazzi di Pavanella a continuare in 10 gran parte della partita. I gol portano la firma di Steffè che ha portato in vantaggio i suoi a poco dalla fine del primo tempo poi nella ripresa raddoppio di Petrella dopo un'ottima giocata di Lambrughi. gli unici pericoli degli ospiti sono arrivati dal centroavanti Caracciolo che però è stato contenuto egregiamente dalla retroguardia Giuliana. Il menù delle feste di Chef Franco oggi passa al secondo. Vediamo. Ciao a tutti e ben ritrovati per i piatti delle feste oggi vi preparo una suprema di cappone all'arancio gli ingredienti per questo piatto sono una suprema di cappone dell'arancio spremuto dei chiodi di garofano delle cime di rapa del miele olio aceto scorzetta di limone sale pepe e zucchero adesso iniziamo con la marinatura della suprema di cappone prenderemo del sale del pepe un cucchiaino di miele dell'olio d'oliva chiodi di garofano e lo massaggiamo e infine aggiungiamo il succo d'arancio intanto prepariamo le scorzette di arancio caramellate per guarnire il piatto prendiamo scorzette di arance aggiungiamo dell'aceto di mele giusto da coprirle dello zucchero e adesso facciamo cucinare molto lentamente sul gas dopo averlo ben marinato iniziamo la cottura padella bella calda un goccio di olio e inseriamo la suprema di cappone dalla parte della pelle la suprema di cappone è caramellata al punto giusto noi adesso la bagneremo con il sugo d'arancio adesso le scorzette si sono caramellate noi le leveremo dal fuoco e poi ci guarniremo il piatto mettiamo le cimite la suprema di cappone caramellata all'arancia è pronta ci vediamo la prossima puntata e infine vi ricordo che se volete vedere il vostro presepe o il vostro albero di Natale su Tele4 potete chiamarcelo 040 300 500 oppure scriverci a redazione chiocciola tele4.it come ha fatto un omonimo del vice ministro Luigi Di Maio che è il presepe di oggi grazie a tutti per averci seguito e buona serata la prossima Sous-titrage Société Radio-Canada